Buonasera, ben trovati con l'informazione di Udnews TV, con il nostro notiziario, con l'edizione notturna. Apriamo con la notizia in primo piano dell'Ansa, ovvero con l'operazione della polizia e dei carabinieri impegnati nel contrasto della mafia in Puglia. Un'operazione che ha visto impegnati oltre 200 uomini, sono stati arrestati diversi esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della criminalità organizzata della provincia. Le accuse ipotizzate dalla DDA di Bari, che ha coordinato l'inchiesta, sono a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione, porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. Si tratta della più importante operazione antimafia degli ultimi anni a Foggia. Nel corso della conferenza stampa sull'operazione, il procuratore nazionale antimafia ha parlato di replica del modello dell'andrangheta, basato sul legame strettissimo per il vincolo di sangue, affiliazioni, gerarchie e cassa comune. Ai pochi coraggiosi imprenditori che hanno denunciato, va tutto il nostro appoggio e la nostra vicinanza. E ora andiamo in regione, dove dopo l'approvazione del decreto sicurezza, l'apertura dei CPR, i centri permanenti per il rimpatrio, si fa più vicina. Il governatore Massimiliano Fedriga auspica che ne siano aperti 5 in regione, ovvero a Gradisca di Sonzo, nei 4 capoluoghi. Vediamo. Decreto sicurezza, il CPR di Gradisca, si sa quali saranno i tempi, a che punto siamo? Lo che stanno procedendo ovviamente non è competenza nostra, la ristrutturazione, io come sempre mi auguro che non sia l'unico CPR presente in regione. Penso che siano strutture sicure, dai quali chi è entrato clandestinamente non può circolare liberamente su territorio regionale e quindi garantiscono sicurezza ai nostri cittadini. Mi auguro che altri comuni, come è successo, diano disponibilità, mi auguro che il Liminale voglia ampliare il numero di CPR, e ovviamente conseguentemente diminuire, come è scritto nello stesso decreto sicurezza, l'accoglienza diffusa agli SPRAR. Quali potrebbero essere gli altri siti per aprire dei CPR? È il territorio che decide, ma mi sembra di aver letto con chiarezza dichiarazioni del sindaco di Udine, del sindaco di Gorizia, del sindaco di Trieste, del sindaco di Pordenone, che danno disponibilità ai CPR, che mi sembra una scelta saggia per la loro comunità, perché sono dei centri controllati dalle forze dell'ordine, dai quali chi non si sa perlomeno quali siano le loro intenzioni, non possano uscire e fare quello che vogliono, voglio garantire sicurezza. Se gli sparpaglio, come succede e come è successo con la precedente amministrazione regionale e precedente governo nazionale, vuol dire che quella sicurezza non sono in grado di garantirla. Noi sensibilizziamo e devo dire che le nostre sensibilizzazioni sul tema sono sempre state ben recepite, pensiamo soltanto all'aumento in modo continuativo del personale per controllare i confini, che è la prima volta che succede, perché erano state fatte delle misure spot, ma adesso è in modo continuativo e quindi è un cambio di passo enorme. Pensiamo soltanto che gli ingressi sono drasticamente diminuiti, forse siamo fortunati, ma forse qualcosa di buono l'abbiamo fatto. E rispetto all'approvazione definitiva alla Camera del Decreto Sicurezza e alle polemiche sorte sulla gestione e sull'immigrazione, sentiamo la posizione di Walter Rizzetto, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Rispetto al Decreto Sicurezza, ovviamente sono sorte tante polemiche sulla gestione migrazione, c'è chi dice che non si risolvano così i problemi degli arrivi e ci saranno più i regolari per strada. È un inizio, anche noi avremmo voluto ampliare e ampliare meglio nel dibattito parlamentare il cosiddetto Decreto Sicurezza. Siamo d'accordo con un inizio del governo, chiaramente questa cosa dovrà essere perfezionata nei mesi prossimi, nei mesi a seguire. È altrettanto chiaro che Fratelli d'Italia ha una posizione assolutamente certa rispetto a tutto quello che è il tema immigrazione. Abbiamo proposto molte volte il blocco navale, non perché vogliamo fare la guerra a nessuno, semplicemente perché diciamo che un certo tipo di pratica, o perlomeno le persone, che non devono essere racchiuse in nessun campo di concentramento al nord dell'Africa, devono essere trattate bene e non possono essere fatte soltanto sbarcare in Italia per poi essere purtroppo soggetti a inedia e chiaramente anche poi non tutti, ovviamente, ma a qualche episodio di violenza, a qualche episodio che fondamentalmente non fa bene a nessuno. Quindi ribadiamo, per quanto ci riguarda devono esserci degli accordi bilaterali con i paesi nordafricani che vadano a gestire chi effettivamente è il vero richiedente asilo, cioè chi ricade nello stato giuridico del richiedente asilo e lì ci sono le porte e le braccia aperte, però è del tutto evidente che l'Italia non può affrontare da sola questa ondata immigratoria che è veramente molto importante negli ultimi anni. E sono tante le notizie di cronaca quest'oggi nella nostra regione, allora le andiamo a vedere nel prossimo servizio con le nostre Flash News. La polizia ha arrestato ieri un 37enne italiano dopo aver perquisito la sua casa. L'uomo residente a Udine è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. All'interno dell'appartamento, infatti, sono stati sequestrati 140 grammi di hashish e un bilancino elettronico. La perquisizione rientra insieme ad altre nelle attività seguite alla morte per overdose di una giovane di 22 anni il 19 giugno scorso. Usava la carta di credito dell'anziana che assisteva senza autorizzazione. Per questo una donna, che nel tempo ha prelevato a vari bancomat fino a 4.000 euro, è stata denunciata dai carabinieri per furto pluriaggravato e continuato per utilizzo in debito della carta di credito. L'anziana di 70 anni non ne sapeva nulla. Si aggirava indossando l'uniforme e i fregi propri di una guardia giurata, pur non essendo in possesso del titolo prefettizio. Il giovane, un ventenne residente nel capoluogo friulano, ha tirato però l'attenzione dei carabinieri della stazione di Martignacco, che a seguito di un controllo lo hanno denunciato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Incidente stradale a San Giorgio della Ricchinvelda, dove un'automobile è finita contro un albero in via Pecile. I vigili del fuoco di Spilimbergo hanno operato con il 118 per restare il conducente, poi trasportato all'ospedale. Allarme incendio questa mattina, poco dopo le 7, a Fontana Fredda, in via Marsala, a fuoco la canna fumaria di un'abitazione, probabilmente per un accumulo di materiale di risulta da combustione che si è surriscaldato. Le vistose fiamme che uscivano dal camino sono state viste anche a distanza. Sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco di Pordenone, che sono riusciti a limitare il rogo. E i blitz contro l'occupazione abusiva di alloggi a Teramon Falcone stanno portando alla luce una situazione sconcertante. In un edificio storico del quartiere di Panzano, sei appartamenti sono risultati abitati da persone che non avevano il titolo. Per farlo vediamo nel prossimo servizio. Due soli inquilini in regola su un totale di otto alloggi di proprietà comunale. Questa è la situazione emersa a Monfalcone nel condominio Gioconda, in via Cosulic, dopo l'operazione di evacuazione degli abusivi condotta dalla polizia locale. Per gli altri appartamenti è stata appunto riscontrata l'occupazione abusiva, con l'eccezione di uno già sigillato per un precedente sgombero. I blitz contro le occupazioni abusive di alloggi di proprietà comunale e gestione Ater stanno mettendo in luce una situazione sconcertante. Tra redi abbandonati e mobili consulti è apparso un quadro desolante, tanto più in una palazzina di pregio storico architettonico nel rione di Panzano. Ci vorrà del tempo per rimettere a posto gli alloggi, dal momento che solo uno di quelli liberati è in condizioni accettabili. Il Comune intende far subito uno stanziamento per recuperare almeno due appartamenti, a cui seguiranno altri fondi nel 2019. Intanto sono state sostituite le serrature per impedire il rientro degli occupanti, sono stati rimossi i sanitari ed è stata interrotta l'energia elettrica, peraltro frutto di un allaccio abusivo. Cambio di comando per la brigata Iulia Fabri subentra a Vezzoli affollata cerimonia in piazza Libertà con il ritorno delle truppe alpine dalla missione di pace in Libano. Oggi è effettivamente una giornata di festa per due ragioni sostanzialmente. La prima perché celebriamo il fatto che la Iulia è tornata dopo aver portato un contributo di pace, piccolo, grande che sia, ma per il bene di tutta l'umanità e nel mondo. Il secondo invece riguarda il fatto in sé che è il cambio. Il cambio ovviamente è sempre un momento di gioia, perché si ricorda tutto ciò che viene fatto, ma anche un momento in cui si passa il testimone, nuove energie, nuove missioni, una nuova volontà da chi arriva. E in questo contesto, come dicevo nel discorso che ho fatto, ho preannunciato due tipi di intervento che assegno e affido come messaggio, come consegna al nuovo comandante. Il potenziamento dell'attività in montagna e il potenziamento dell'attività duale. Con il primo, ovviamente, intendiamo riportare le truppe in montagna e per fare questo cerchiamo una maggiore specializzazione. Ora, se è vero che storicamente esiste solo un plotone esploratori o alpieri, come si chiamano, nei nostri reggimenti alpini, è il mio intendimento portarne un plotone per ogni compagnia. Quindi in totale avremo tre plotoni alpieri all'interno di ogni reggimento. Questo, come capite, è un notevole balzo in avanti della capacità di andare in montagna. E poi ha annunciato anche la volontà di rafforzare il rapporto con la protezione civile e con l'Associazione Nazionale Alpini. Esatto, come sapete la protezione civile nell'Associazione Nazionale Alpini è rappresentata da circa 16.000 uomini, una componente davvero molto importante, a cui noi siamo agganciati per motivi prima di tutto di affetto, ma anche, se mi permettete, per motivi operativi. Noi il mese scorso abbiamo fatto una grossa esercitazione in tre regioni, in Veneto, in Piemonte, in Abruzzo, abbiamo cominciato a porre le basi per lavorare insieme. Ora, cosa intendiamo fare? Semplicemente, noi mettiamo degli assetti specialistici, soprattutto derivati dai nostri reggimenti genio e logistici, e l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, mette in campo la sua potenza umana. Queste 16.000 persone che sono in grado di completare i nostri ranghi e di dare veramente un grosso aiuto alla comunità. E dopo il successo delle prime tre edizioni, la quarta asta segnerà un momento importante per la montagna friulana e la filiera Bosco Legno, martoriata dal maltempo di fine ottobre. Sarà anche l'occasione dunque per riflettere sulla situazione dei nostri boschi e sul loro grande potenziale di sviluppo. Appuntamento importante che quest'anno, dopo quello che è successo, abbiamo voluto giocare all'insegna dell'orgoglio del mondo forestale, quindi della volontà di esserci, di segnare un punto di presenza, di volontà di riprendere contatto con il mercato, con il mondo, eccetera, e all'insegna della solidarietà. Perché chiederemo a tutti i compratori, il Legno Servizi si impegna anche come azienda, a versare un 5% del valore a base d'asta alla protezione civile, a quel fondo che verrà destinato per il rimboschimento e la rinascita dei nostri boschi. È importante anche perché è un segnale di valorizzazione di prodotti che sono rinnovabili, sono all'interno di foreste certificate, quindi legno certificato, una garanzia quindi a tutela anche di quello che sarà il cliente finale che utilizzerà questo materiale. Certo è che questo è anche il segnale che probabilmente l'evento calamitoso di questi giorni può essere lo stimolo a fare ancora di più rete, fare di più squadra, perché così ci daranno la possibilità di riuscire veramente a superare una difficoltà traendone slancio, anzi per rilanciare un settore che oggettivamente negli anni passati aveva avuto anche qualche segnale di difficoltà. Facciamo tutti quanti la nostra parte e avremo un risultato che sicuramente sarà utile. Ecco, a distanza di un mese da questa alluvione, com'è il territorio, come sta? Che situazioni si devono ancora risolvere? Ma tante situazioni. Noi adesso stiamo aspettando questo decreto che è alla firma da parte della regione, le nostre ditte boschive stanno lavorando con difficoltà perché adesso è venuta un po' la neve, un po' il freddo, ma forse anche un po' l'impreparazione delle nostre ditte individuali rispetto alla concorrenza austriaca. Però ce la stanno mettendo tutta e quindi credo che faremo un bel lavoro insieme. E a proposito di maltempo e di danni che hanno visto protagoniste le diverse zone della nostra regione, l'aggiunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, Alessia Rosolen, ha approvato regolamento sui criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di cantieri di lavoro per i quali sono stati stanziati 1,3 milioni di euro. Nel 2018 2,6 milioni nel 2019. I comuni possono quindi presentare progetti che prevedono l'impiego di disoccupati per la realizzazione di opere pubbliche e attività straordinarie di rimboschimento e sistemazione montana. Grazie a questa iniziativa, ha sottolineato Rosolen, i comuni, in particolare quelli dell'area montana colpiti dal maltempo, possono avviare operazioni di pulizia degli alvi, manutenzione dei sentieri, posa di passarelle sui fiumi e recupero dei terreni. Viene quindi data una risposta concreta alle necessità delle amministrazioni cittadine e le comunità danneggiate dagli eventi climatici di fine ottobre. La Regione garantirà la totale copertura economica dell'indennità giornaliera del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori coinvolti. Il numero di persone impiegabili in questa attività varia in base alle dimensioni dei comuni. Le amministrazioni cittadine fino a 5.000 abitanti potranno ricorrere a due lavoratori, da 5.000 a 10.000 abitanti potranno richiederne 3, fino a 15.000 potranno richiederne 4, mentre fino a 30.000 5 e poi 100.000 abitanti potranno richiederne 10 e quelli oltre 100.000 abitanti potranno richiederne 20. Le domande potranno essere presentate tramite il front-end generalizzato e la valutazione della pratica verrà secondo una modalità di sportello fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili. Cambiamo argomento. La nautica è un settore con un futuro fortemente attrattivo per il turismo del Friuli Venezia Giulia e il progetto Interrega i Blu può dare un contributo importante allo sviluppo sostenibile del comparto. Lo ha detto l'assessore regionale dell'attività produttiva Sergio Minio Bini nel corso dell'incontro dal titolo Progetto ai Blu. Approcci evolutivi per le PMI della nautica da Diporto che si è tenuto quest'oggi a Palazzo Antonini a Udine. Bini ha ricordato come il buon rapporto tra numero di posti barca e lunghezza delle coste di cui gode la nostra regione è il presupposto per sviluppare una serie di servizi attorno a un circuito virtuoso tra ricadute sociali, ambientali ed economiche. Strategico in questa visione il ruolo del porto di Trieste valore aggiunto per dimensioni attrattività commerciale e visibilità mondiale a cui Bini aggiunge la potenzialità di un maggiore utilizzo della viabilità lagunare e fluviale in chiave turistica. È stato inaugurato alla presenza anche del presidente della regione Fedriga il mercatino di Natale in piazza San Giacomo. Cambiamo quindi decisamente argomento entriamo in clima natalizio un mercatino organizzato da Confartigianato. Domani aprirà i battenti invece l'attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Venerio. Artigianato di alta qualità prodotti enogastronomici musica e laboratori questi gli ingredienti del mercatino di Natale allestito in piazza San Giacomo da Confartigianato con la collaborazione dell'amministrazione cittadina di Udine Idea e Confcommercio protagoniste 19 imprese artigiane che proporranno fino al 26 dicembre una serie di spunti originali per i regali da mettere sotto l'albero. Non mancheranno l'accompagnamento musicale e per la prima volta i laboratori. Tante belle novità innanzitutto un allestimento molto più ricco grazie anche alla collaborazione con Udine Idea Angels Home e il giardino di Corten e vedete che le casette sono anche con un bellissimo addobbo un laboratorio che sarà sempre ricco di animazione in cui sia i grandi che i piccoli potranno provare a cimentarsi con alcuni lavori artigianali ci saranno anche collaborazioni per esempio quella con l'Istituto Stringer che produrrà dei biscotti qui in piazza ci saranno anche delle partecipazioni da parte della Croce Rossa insomma ci sono tante collaborazioni e secondo me è proprio da questo che nasce la ricchezza del mercatino oltre che dei prodotti naturalmente nostri che sono quelli dell'artigianato e quelli del food beverage abbiamo anche la somministrazione quest'anno del vin brulee che è una bella novità ci sono cose veramente molto belle molto ricercate il fatto a mano veramente made in Italy e quindi venite a vedere e potrete veramente valutare voi la qualità dei prodotti Natale anche al mare perché nel palazzo della regione a Udine sono stati presentati gli eventi previsti all'Ignano Sabbiadoro per il periodo natalizio tra i principali la quindicesima edizione del grande presepe di sabbia vicino alla terrazza a mare incentrato quest'anno sul cantico delle creature di Francesco D'Assisi è visitabile tra l'8 dicembre e il 27 gennaio e inoltre è presentato il concerto di Angelo Branduardi il 7 dicembre i punti di forza di questa nuova edizione di Natale da amare beh ci sono tantissime novità a iniziare dal villaggio dove ci saranno 18 casette abbiamo puntato molto sull'enogastronomia quindi food perché abbiamo visto che il turista oltre che da tutte le cose che l'Ignano propone che sono il presepe di sabbia e tutto il resto il food è sempre da una marcia in più alle manifestazioni tra i principali concerti e spettacoli previsti invece? il 7 dicembre abbiamo Branduardi poi abbiamo tutta una serie di concerti gospel a iniziare dal 9 di dicembre con gli Harmony il primo gennaio con Send Up gospel Powerful eccetera poi il 25 di dicembre Natale il Victory gospel dove cantano anche dei bambini e poi tutta un'altra serie di iniziative dove vi invitiamo a vedere il nostro calendario manifestazioni perché sono talmente tante che è difficile tenerle in mente tutte attesissimo come sempre il grande presepe di sabbia il tema di quest'anno perché cosa si caratterizzerà? il tema di quest'anno sarà San Francesco il Cantico delle Creature dopo anni in cui abbiamo fatto temi un po' più difficili come il terremoto abbiamo la guerra mondiale quest'anno da settembre abbiamo ragionato abbiamo pensato di fare qualcosa che parlasse di pace e di natura ci è venuto automatico pensare a San Francesco perché San Francesco il suo Cantico delle Creature ci ha permesso come vedrete a vedere il presepe di scolpire diverse immagini molto belle con personaggi animali e anche un messaggio molto importante sulla natura sull'ambiente che poi per Lignano sono fondamentali ci sarà anche la collaborazione con Bibione per la promozione dei rispettivi presepi di sabbia? sì abbiamo incontrato i volontari di Bibione già da settembre abbiamo collaborato nel senso che gli artisti dell'Accademia della Sabbia sono andati a fare anche un piccolo presepe a Bibione e quindi collaboriamo perché vorremmo che questa cosa diventasse sempre più grande chi viene a Lignano verrà invitato ad andare a Bibione chi va a Bibione verrà invitato a venire a Lignano oltre a questa collaborazione importantissimo ci siamo gemellati con Greccio perché Greccio è la città dove San Francesco d'Assisi nel 1223 ha fatto il primo presepe di diventa al mondo siamo andati là gli faremo un presepe di sabbia nel museo internazionale presepe stupendo che hanno lì a Greccio andremo il 15 a inaugurarlo con una corriela che partirà di Lignanesi per trovare questo bellissimo a città vicino a Rietti ci sarà una collaborazione insomma col primo presepe al mondo che è di San Francesco e col presepe di sabbia di Lignano che è forse diventato uno dei più importanti in Italia e passiamo ora allo sport perché quest'oggi si festeggiano i 122 anni di Udinese Calcio una grande festa allo store Macron tanti tifosi presenti per festeggiare i colori bianconeri abbiamo raccolto le voci dei pupilli della tifoseria che sono intervenuti al microfono di Jacopo Romeo e andiamo subito ad ascoltarle sempre un'emozione al cumpleaños del Clau è un anno in più di storia quindi siamo contenti di essere qua con la gente loro sono contenti quindi bene un buon rapporto abbiamo però fino a oggi siamo qua poi pensiamo alla partita tutto questo affetto tu sei uno dei più acclamati diciamo così beh ti fa piacere sono soddisfazioni che vanno anche oltre il campo perché ti danno la consapevolezza di quanto bene stai facendo onorando questa maglia storica sì sì io lavoro anche per loro per la gioia di loro quando il lavoro si fa bene è bello che loro lo riconoscano quindi siamo contenti di essere qua io sono contento con loro loro anche quindi sto bene sono contento come detto prima tu è il primo compleanno dell'Udinese che festeggi però è una grande emozione penso guarda quanta gente sì siamo molto contenti di stare in una società come quella sappiamo dell'importanza che è l'Udinese per tutta la società in vista anche della prossima partita questa è una carica importante una bellissima soddisfazione di pomeriggio qui vedere tantissima gente che ti fa anche capire tu che sei arrivato da poco quanto amano l'Udinese sì sì lo so sappiamo dell'importanza di quello adesso la domenica abbiamo una partita difficile però dobbiamo stare molto concentrati beh è un bel momento direi anche tu come naccio sei arrivato quest'anno ma un simile bagno di folla non può che fare piacere sì sì siamo arrivati a quest'anno con la mentalità di fare bene di crescere ogni giorno e buono c'è un momento di adattazione che è logico adesso stiamo sfruttando di stare giocando di poter giocare la squadra che vogliamo vincere questa domenica e fare tutti i punti che possiamo 122 anni la seconda squadra più antica d'Italia questo ti dà ancora di più l'idea del prestigio della squadra di cui difendi i colori sì sì lo sapevo che è una delle squadre più antiche di tutte quindi è importante perché c'è una storia lunga che che dobbiamo ripresentare e difendere ogni domenica ce l'abbiamo fatta eccoci qui con Rolando Mandragora beh Rolando che dire tantissima gente 122 anni seconda squadra più antica d'Italia è bello un momento come questo sì sì è un bellissimo momento soprattutto è bello passarlo con i nostri tifosi festeggiare nel migliore dei modi stare tutti insieme vedere la gente felice soprattutto essere noi stessi felici è una bella cosa per festeggiare i 122 anni dell'Udinesi soprattutto questi grandi tifosi sono stati al nostro fianco al vostro fianco anche quando le cose andavano benissimo adesso si arriva con grande entusiasmo dopo partire con la Roma è ancora più bello avere questi aumenti di contatto con la gente sì sì è bello come hai appena detto avere aumenti di contatto con la gente ci sono sempre state vicine è stato un nostro punto di forza spero possa continuare ad esserlo e sperando di portare a casa dei risultati positivi che possano portare entusiasmo a tutta la piazza e dopo la prima squadra che si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo parliamo di Primavera che in questa decima giornata di campionato volerà a Cagliari una sfida importante per consolidare la vittoria contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato ci racconta tutto nel prossimo servizio Maurizio Ferrari alla decima giornata del campionato Primavera 1 per l'Udinese si apre una chance per tornare a mettere il muso fuori dalla zona rossa della classifica dopo il duello vinto contro il Sassuolo a Cagliari sarà un altro scontro diretto il rosso-blu di Max Canzi sono quattro punti avanti ai bianconeri frutto di un ottimo ruolino di marcia negli ultimi tre incontri dove hanno raccolto un pareggio e due vittorie in posizione in trasferta tutt'altro che banale visto che a cadere negli ultimi 180 minuti di fronte ai sardi sono state la Fiorentina quarta in classifica e il Palermo che fino allo scorso turno era imbattuto di fronte ai propri tifosi una formazione corsara mai vincente in casa ma scaltra nello sfruttare e capitalizzare al massimo le quattro reti messe a segno da Francesco Verde classe 1999 acquistato in estate dal Brescia sulle appena sette complessive di squadra una marcatura in meno dell'Udinese vigile rispetto ad un'avversaria in buona forma ma altrettanto carica dopo il determinante successo di Manzano contro il Sassuolo una prestazione estremamente convincente sul piano del gioco che potrebbe convincere mister Sassarini a confermare in blocco il suo schieramento potendo contare anche sul rientro del portiere Manuel Gasparini assente dall'ultimo incontro per l'impegno al torneo dei gironi con la nazionale under 17 dinunziata dove tornerà proprio dopo la trasferta di Cagliari per affrontare in parietà della Francia in una doppia amichevole a Claire Fontaine il 4 e 6 dicembre l'estremo difensore del 2002 è stato ben sostituito da Gianmarco Crespi in una piacevole alternanza tra due prospetti di assoluto valore ancora out invece Mattia Samotti che ha terminato di scontare la squalifica rimediata a Palermo ma non sarà a disposizione per un problema fisico così come non ci sarà alcun prestito dalla prima squadra fischio d'inizio sabato alle ore 14 con diretta su Udi News TV ed ora parliamo di Pordenone perché quest'oggi alle ore 17 è stato presentato un nuovo progetto nella sala consigliare del comune di Pordenone parliamo infatti di Pordenone 2020 un progetto un'iniziativa equity crowdfunding del Pordenone Calcio un evento organizzato da The Best Equity la piattaforma ufficiale del progetto obiettivo del presidente Mauro Lovisa dei soci Gianpaolo Zuzzi Maurizio Orenti e Carlo Vendrame creare un club nel club con i tifosi protagonisti attivi nella crescita societaria alla vernice milanese a rappresentare il Pordenone c'erano il direttore generale Fabrizio Cometti e l'avvocato Nadire Plasenzotti che con il dottor commercialista Alberto Rigotti ha collaborato all'ideazione e alla realizzazione del progetto e ora come sempre diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali che troverete domattina in edicola a partire da Il Foglio che intitola Il film è toppato di Moretti ci ricorda quanto il mito romantico del Pueblo si fa gestante tutore artificiale di quello sorrelliano del populismo un altro titolo è quello successivo ovvero quello che andiamo a leggere insieme cambiamo quindi testata andiamo a vedere il titolo di Libero il nuovo corso dei Vescovi più politica meno Vangelio il Cardinale Bassetti il gran capo della CEI invita i cattolici a scendere in campo attivamente in favore dell'Unione Europea e contro i sovranisti i prelati temono Salvini in quanto è più forte di loro prossima prima pagina quella della verità intitola l'appello del portavoce del regno di Beni restiamo in Africa e in Europa rischiamo di finire in mano a gente come Babbo Renzi e poi ancora un altro titolo della verità la guerra di Fico a Egitto e a Lega per spaccare il Movimento 5 Stelle questi sono solo alcuni dei titoli fra cui appunto c'è anche quello del giornale l'Istat conferma Di Maio ci e tira giù dopo 5 anni PIL sotto 0 governo pronto a cedere sulla manovra Doris è solo l'inizio se non cambiano andrà peggio e appunto questi alcuni dei titoli che vedrete domani mattina nell'appuntamento con la rassegna stampa di Udi News TV a partire dalle ore 7 ne abbiamo visti solo alcuni quelli arrivati per il momento in redazione è tutto per questa edizione del nostro notiziario io vi auguro la buonanotte e vi lascio con l'accade oggi di Guido Comirato il 30 novembre è una data storica per l'Udinese oggi il club bianconero compie 122 anni è una data un po' imposta dalla Lega perché ad onor del vero l'Udinese aveva cominciato a giocare al calcio un anno prima si esibì il 15 settembre del 1895 a Roma contro una squadra di Bologna davanti al re d'Italia Umberto I e alla regina Margherita poi nel settembre del 1896 dal 6 all'8 settembre fu protagonista alla prima edizione dei giochi nazionali in svolgimento a Treviso per quanto concerne la gara calcistica affrontò il Turazza di Treviso e la formazione di Ferrara vinse entrambi gli incontri la formazione era composta da Bissattini Chiusi Cosnappel Pellegrini Milanopolo e del Negro Plateo Spivac Dal Dan che era il capitano ma anche il maestro di ginnastica nel comune di Udine Tam e Tolu Tam si cimentò anche nella corsa veloce e nel tennis ebbene vinse entrambe le gare in queste due manifestazioni l'Udinese nella sua storia è stata protagonista di risultati molto ma molto belli non ha vinto campionati ma ha riempito pagine di gloria nel 1950 è stata promossa in A e da allora è una delle squadre più fedeli alla massima categoria è la tredicesima in ordine cronologico ha sfornato signori giocatori per quanto riguarda le vittorie comunque tutt'altro che prive di significato io ricordo la Mitropa Cup due volte il campionato nazionale primavera l'Inter Toto ha partecipato per 11 anni alla manifestazione europea ha partecipato anche alla Champions League ed è giustamente considerata una delle squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano per quanto riguarda quello scudetto settembre 1896 vinto ma mai assegnato tutto dipeso dal fatto che quella manifestazione a tre quel triangolare non fu organizzato dalla FIF Federazione Italiana Football oggi Federazione Italiana Gioco Calcio perché non era stata ancora fondata l'Udinese si oppose fece reclamo ma invano a fare le altre fare le cose